Ultima domenica di protesta a Parigi contro la legge che apre a matrimoni e adozioni per le coppie omosessuali a due giorni dall'approvazione definitiva in Parlamento. Migliaia di persone, 45.000 secondo la prefettura, sono scese in piazza in nome della famiglia tradizionale per fare arrivare la loro voce fino a François Hollande. Vogliamo che il Presidente della Repubblica capisca davvero che non protestiamo senza ragione da sei mesi. Alla Bastiglia la risposta dei sostenitori del matrimonio per tutti in nome dell'uguaglianza dei diritti contro l'odio e l'omofobia. Non mi disturba per nulla che le persone vogliano sposarsi, ognuno a suo modo sceglie, organizza la propria felicità e il suo modo di amare. Il testo che divide il Paese, adottato in prima lettura in febbraio, torna in Parlamento dopo il sì del Senato.